Sì! No! No! Fatterà quello che ti serve e puliscimi la cella, professore. Tengano ammasciato per lui da parte del professore di Vesuviano. Un duello! Dove si nasconde? Siete voi che me lo dovete dire. Io so che non è fuggito dal manicomio, ma l'hanno rapito. Riccola! Riccola! Qua fra tutta la provincia e tutta Napoli ci sono più di 300.000 disoccupati. E noi che cosa gli offriamo? Lavoro! Si vede che io sono destinato a fare del bene, a aiutare. Forse perché ho bisogno di affetti, che ne so. Naturalmente polizia, carabinieri e guardia di finanza non verranno a saperne nulla. Domani stesso arriveranno qui i terroristi che ci avete segnalato. Avete la mia parola d'onore. Farò tutto il possibile per salvare l'assessore Mesino. Ogni zona deve avere un capo. Un capo. Nella Sicilia, i siciliani. Nella Calabria, i calabresi. E in Campania, tu. Siete soltanto imbecille. Asperate! E fatelo sapere agli altri amici. Mio fratello non abbandona mai nessuno. Ergosti. Arma. Ergosti. 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 E in Campania.